Ciao ragazzi, siamo qui allo stand Fujita a vedere uno degli smartphone esposti, ossia il Regza T01. Si tratta di uno smartphone con uno schermo da 4.3 pollici con risoluzione 1080x720 pixel, piuttosto compatto, ha dimensioni di 129 mm di lunghezza, larghezza di 64, 8.8 di spessore, quindi molto molto sottile. Pesa molto leggero, 120 grammi, è waterproof, ovvero resiste all'acqua, possiamo immergerlo ad esempio in un contenitore d'acqua e resisterà per mezz'ora. Ha la peculiarità di avere una fotocamera del 13 megapixel, con capacità di registrare il video in full HD, abbiamo il flash led, abbiamo anche un sensore che rileva le nostre dita per sbloccare proprio il terminale stesso. Quindi molto simpatico, una feature che abbiamo visto già l'anno scorso sul Motorola Atrix. Davanti ha una cam VGA per la videochiamata di videochat, a bordo ha un chipset OMAP 4430 dual core di Texas Instruments, infatti le prestazioni sono molto molto buone, ad esempio possiamo vedere come renderizzo il nostro sito web, vedete quello Mac, sia più sul zoom, sia quando andiamo a ruotare, è super veloce. A bordo abbiamo Android di versione Gingerbread 2.3.5, ovviamente si presuppone sarà aggiornata dai spingi semplici, non sappiamo quanto. un gigabattimo RAM, il device comunque risponde alla perfezione, ci saranno tre modelli, questo è il modello 3G, c'è il modello WiMAX e quello LTE, quindi in tre edizioni. Ovviamente è presente anche in diverse colorazioni, questa è quella un po' viola, quello che ho in mano è quella della merda, vedete com'è, abbiamo diversi colori, per diversi gusti, e vedete come diventi simile. Il nostro spazio è un vito anche in un po' che provo a mettere in un po' di acqua e in un po' di acqua e in un po' di acqua e in un po' di acqua. Di voi! Ci estaria un po' di acqua e in un po' di acqua e in un po' di acqua e in un po' di acqua! Ci estaria bene, perché io sia pure in un po' di acqua. Il nostro sacco è un po' di acqua. Ancora Leute è un po' più minuto, forte e資 Ros excludere i migliori ai ιggi. Ogni synthCI Hai separato tutte leadas bloody sostengono che sia laуда cantige, ora S angef tiers Ciao Lo vede del macroe.